Ciao, buongiorno, una notizia così di successo durante la notte, un misterioso incendio a Valle di Chioggia, un'auto è stata bruciata, appunto completamente bruciata nella notte, non ci sono dettagli, sono tornati i vigili del fuoco e ovviamente i carabinieri, eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito nel telegiornale del pomeriggio. Approfittiamo anche per ricordarvi che devono iniziare i lavori sul ponte delle trezze, appunto sul traslagonare, non sono ancora iniziati ma si presume che inizieranno presto, però dopo che ANAS avrà predisposto la segnalettica verticale e probabilmente come anche ci sono state indicazioni da parte dell'amministrazione di comunque dare segnalazioni in modo che almeno una parte del traffico pesante possa essere spostato, avvisato in modo che magari una parte dei tire non passino appunto per il nostro territorio visto che è già fortemente compromesso dai lavori sia sul ponte dell'Adige sia sul ponte del Brenta e adesso sul ponte delle trezze. Sarà nostra cura avvisarvi quanto prima quando inizieranno i lavori che sicuramente saranno preannunciati dall'installazione della segnalettica verticale che al momento non è ancora stata installata. Ciao e buona giornata, vi aspettiamo nei tre giornali pomeriggio.